Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Technology, l'Inter batte la Fiorentina 2-1 e si qualifica dunque per le semifinali di Coppa Italia di questa stagione. Affronteremo il Napoli nel doppio confronto delle semifinali, Juventus-Milan dall'altra parte. Beh, insomma, tanta roba perché Juve-Milan-Inter-Napoli, le grandi squadre italiane, ecco, diciamo che per quanto riguarda la storia forse i nostri avversari saranno un po' più in basso, ma secondo me invece sono un po' più in basso che quanto riguarda la storia, ma secondo me ci bombarderanno parecchio in semifinali anche perché ragazzi è un altro Napoli, è un altro Napoli rispetto a quello che abbiamo battuto noi, è un altro Napoli perché Gattuso sta facendo tantissimo, l'abbiamo visto, il favore che ci hanno fatto battendo la Juventus, insomma, è un Napoli di cui dobbiamo avere paura, vedremo anche quello che farà nelle prossime giornate. Intanto ci godiamo questa vittoria, 2-1 con la Viola, Antonio Gandereva, il pareggio della Fiorentina con quel bravo ragazzo di casa, adesso è un errore di Lautaro che ovviamente non è un difensore, si è ritrovato in difficoltà nel marcare il gioco aereo di Marti in casa, adesso è poi il gol straordinario di Nicola Barella che i gol brutti non li sa fare, l'ha detto lui adesso l'intervistato su Rai 1, fine partita, devo imparare a fare quelli brutti perché ovviamente si rende conto anche lui che i gol che fa non sono mai banali e spesso accade anche per Andanovic parallelamente per contribuire a delle parate, spesso Samir rimane immobile anche oggi ma era veramente complicato oggi, errore di Lautaro purtroppo in fase di marcatura, spesso lui però non riesce ad evitare gol magari più semplici di quelli che invece evita con parte straordinaria, ne ha fatta una oggi, sull'1-1 mi stavo già, beh non si dice, comunque stavo già avendo parecchia paura e invece Samir, però quando sappiamo che c'è Samir non bisogna mai disperare, bisogna sempre aspettare la fine dell'azione perché Samir qualcosa fa, infatti vola 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 Samir con il braccio di richiamo è riuscito ad evitare quel gol praticamente fatto, aveva già fatto una grande parata nel primo tempo, insomma il solito Samir Andanovic, che l'Inter è stato un'Inter bella, un'Inter bella da vedere, non siamo partiti da Dio ma abbiamo trovato il gol nel momento giusto, fino a primo tempo, Antonio De Andereva contentissimo per lui, come sapete, come sa chi mi conosce, l'ho sempre sostenuto, oggi ha fatto una grandissima partita, per me è migliore in campo dopo Barella e lui, Niccolò grandissima prestazione, poi questo gol pazzesco, siamo entrati con il piglio giusto nel secondo tempo, abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, e a differenza del solito siamo riusciti a segnare e riportarla in alto, nonostante di solito l'Inter quando gioca bene prende gol, poi di solito sappiamo cosa accade, abbiamo questi momenti di blackout, ci buttiamo giù, stiamo giocando bene, però abbiamo preso una batosta quindi ci lasciamo andare, invece oggi è andata diversamente. Niccolò Barella l'ha detto a fine partita, è una competizione alla quale teniamo, ha detto, per cui questa Coppa Italia va assolutamente vissuta nel modo giusto, va tenuta in alto, va tenuta in piedi, e dobbiamo cercare di arrivare in fondo, anche questo ha detto Barella, ma sono cose che dovremmo sempre ricordarci, cioè la Juve c'è il Milan che sicuramente ha voglia di fare tanto, visto che adesso anche con Ibra è un altro Milan, Ibra non è solo un attaccante forte che arriva da anche tanto morale, tanta gritta, tanta intensità, ma è anche un altro Milan perché sta crescendo, lo sappiamo, e sicuramente farà tanto in Coppa Italia, ma si troverà di fronte alla Juve. Noi ci troveremo davanti appunto il Napoli e speriamo bene, che dire, un Napoli che secondo me ci metterà molto in difficoltà, anche loro come il Milan sono troppo in basso in campionato rispetto a quello che si aspettavano, loro soprattutto, visto le ultime delusioni, sicuramente faranno tesoro di queste occasioni per fare male alle rispettive avversarie, quindi vediamo di fare il nostro, poi penseremo all'Europa League, intanto pensiamo al campionato, purtroppo Lautaro sarà squalificato sia contro il tunese sia proprio contro il Milan in campionato, e vabbè, ce ne faremo una ragione, intanto è tornato Sanchez, oggi non è stato eccellente ma comunque mi è piaciuto, Eriksen all'esordio, bei tocchi, bella presenza di Eriksen in campo, deve però ancora inserirsi bene, anche Moses, lui ha fatto ancora meno, ma ragazzi ci vuole tempo, ci vuole tempo, invece Young ragazzi è sempre meglio, dopo l'assist a Lautaro nella scorsa gara è veramente Young un, io direi anche una sorpresa, perché non mi aspettavo un impatto così positivo, purtroppo non è più Young, questo è il problema un po' più old, e quindi speriamo bene, a parte le battute orribili, che questi suoi 34 anni ormai non rovinino, ecco, questo grande impatto che ha avuto, non è vecchio, però purtroppo non è neanche più un giovincello, ma Borca Valero ci ha dimostrato dell'età non conta nulla, avrei voluto vedere oggi nonno Borca, ma purtroppo non l'ho visto, ho visto però un grande Matias Vesino, non meritava anche il gol, qualcuno vuole che Vesino vada via? Io no, io vorrei che rimanesse, perché credo che sia un ottimo sostituto, a proposito dei sostituti, un grande Andrea Ranocchi, è un'ottima partita per lui oggi, insomma mi sono piaciuti quasi tutti, vi ho giocato bene, non siamo partiti benissimo, poi però abbiamo continuato bene, siamo ripresi dopo l'1-1, una bella Inter, ora pensiamo al campionato e vediamo di considerare bene questa Coppa Italia, perché il Napoli sta crescendo, lo affronteremo e non dobbiamo assolutamente prenderlo sotto gamba. Ciao a tutti, sempre e comunque, forza Inter, ciao ragazzi!